... dal punto di vista del risultato, ma più importante dal punto di vista della tenuità atletica del gruppo che con i giocatori che hanno giocato meno, Paonessi e Palladino, ha comunque dimostrato di essere sempre pronto. Sì, oggi innanzitutto una partita organizzata dalla società per questo rapporto che c'è con lo sponsor è una cosa importante, per cui abbiamo accettato di buon grado perché ad esempio chi ieri ha fatto meno oggi ha avuto l'occasione di riproporsi e penso di avere dato un po' l'opportunità quasi a tutti di fare un buon minutaggio in questi punti sui giorni. Palladino è rientrato, un attimo segnale? Sì, Palladino si sta proponendo, è ovvio che è ancora titubante, ma insomma ogni partita che faremo cercherà di fare un passo avanti, questo è quello che ci auguriamo. La rosa dei partenti per l'Inghilterra sia un po' scremata? No, andiamo tutti, tranne la Valdez, direi che è una rosa abbastanza sostanziosa perché ci saranno addirittura gli ultimi due giorni due partite, quindi ha bisogno di tutti. Molto impegnativa, quattro partite comunque contro squadre di livello che hanno giocato o i play-off per la Premiership o che in Premiership ci sono arrivate. Vabbè, questo è importante, andiamo a misurarci, non sarà semplice, però è importante fare buona figura. In pochi minuti una doppietta per Pellè, è un buon segnale anche questo, no? Sì, i nostri attaccanti si propongono, Pellè lavora molto per la squadra, forse non è un bomber di razza, però fa un buon movimento per tutti i campani. Grazie, saluto. Ciao a tutti. Ciao.